Salve a tutti, oggi faremo il pronostico della partita che giocherà domani Napoli contro la Lazio, la Lazio di Sardi. Comunque domani Napoli giocherà alle 20.45, è una partita molto importante questa perché ha alle sue spalle il rivale, il Milan che pure lui sta a 32 e l'Inter sta a 28 punti, non possiamo fare passi falsi. Comunque il mio pronostico è che Napoli domani si discatterà da tutte queste partite che non ha fatto bene e vincerà contro la Lazio per 3 a 1 e segnerà in siglie Mertens e Di Lorenzo, questi saranno quelli che segneranno. Poi il resto non ci importa, basta che Napoli vince. Speriamo che il Sassuolo batterà il Milan perché domani giocherà con il Sassuolo in Milan e l'Inter farà anche lei un passo falso, così li lasciamo indietro nella classifica. Comunque ragazzi io spero che il Napoli domani vincerà e facciamo tutti il tifo per il Napoli, forza Napoli e forza campioni, vincite sempre. Se vi piaciuto questo video iscrivetevi al canale e vi raccomando mettete un bel mi piace, ciao!